Sono dichiarazioni di Lele Mora che fa a un suo amico di vecchia data come ebriatore. Ebriatore senza sapere di essere intercettato lo ripete alla Santa Anche, che è una molto vicina a Berlusconi. Quindi voglio dire l'entourage stretto di Berlusconi che sta parlando e mi sembra che ne parli con enorme preoccupazione. Cioè non è che stanno ridendo o stanno dicendo chissà che cosa. Dicono che quest'uomo è malato e ha ragione Veronica, ha dei grossi problemi, anche le ragazze ne stanno approfittando. E questo giro di feste, di bunga bunga, non finisce mai. Probabilmente Berlusconi vive queste situazioni quasi come una sua medicina, come una speranza, non si sa. Però sta diventando per la prima volta un tema che è uscito dalle ole di giustizia, è uscito dall'inchiesta. Qui è proprio la gente più vicina a Berlusconi che si sta preoccupando di lui. Prima l'ha fatto la moglie ed è stata smentita, addirittura ha sbeffeggiato, ha preso in giro dei giornali berlusconiani. Adesso invece il fatto sta cominciando a prendere un altro livello. L'influenza maggiore secondo me ce l'ha sulla difesa Berlusconi. Perché la difesa Berlusconi puntava su Briatore come uno delle persone che raccontava che ad Arcore c'erano soltanto delle cene eleganti e che non aveva mai visto sesso. Ora il fatto che una stessa persona racconta quest'altro tipo di mondo, credo che crea all'avvocato Nicolo Ghidini qualche problema. Briatore deve sapere, come penso sappia, perché ha avuto un sacco di ironia con la giustizia nella sua lunga vita, che quando uno è chiamato a testimoniare non può esimersi. Quindi lui adesso è veramente in una posizione molto complicata perché da una parte deve dire le cose come stanno perché ci sono. E dall'altra parte probabilmente il suo animo va in un'altra direzione rispetto a quello del pubblico ministero. Io non so quello che succederà, però ho come l'impressione dal cronista che tante volte è stato nei processi, che questa sfilza di avvocati che sono stati allestiti dalla difesa di Berlusconi, tutte queste persone, tutte queste ragazze che negavano di aver visto qualsiasi cosa, al processo un po' rischiano perché è vero che un testimone può dire quello che vuole, ma ha l'obbligo di dire la verità. E siccome le intercettazioni, quello che è stato detto, i riscontri oggettivi, le buste con i soldi trovati a casa delle ragazze raccontano di sesso in cambio di denaro, smentirlo davanti a Hilda Boccassini che interroga nell'aula di un processo non mi sembra una cosa molto facile.